E niente, l'esperienza di cui voglio parlare in realtà è avvenuta non in Casavo ma in Easy Welfare. A piccola nota di colore che so che Aurelian ci tiene, quando ero in OneBip io ero il suo scagnozzo. Ho iniziato con lui e è lui che mi ha iniziato a questo brutto... Va bene, niente, quindi partirei in buona sostanza, come dicevo quello che ho fatto è successo in Easy Welfare, quindi diamo un attimo di contesto. Easy Welfare era una, in quel momento, cioè quando sono entrato io era una realtà che era ormai abbastanza matura, dieci anni diciamo da quando era nata. E cos'è che è successo in Easy Welfare? Praticamente è nata principalmente con un focus su quello che era la vendita di servizi associati al trasporto pubblico locale. E a un certo punto, visto che sono cambiate delle leggi in Italia, hanno visto delle opportunità diciamo di mercato nell'ambito cosiddetto dei flexible benefit. E cosa è successo? Praticamente immettendosi in questo mercato qua si sono espansi molto velocemente, sono diventati leader in Italia e cercando di stare dietro a tutte quelle che erano le esigenze e cavalcare diciamo l'onda, quello che è successo è che il business è cresciuto molto alla svelta, il dominio aziendale è evoluto in maniera molto forte e quello che è successo è che spesso, come spesso succede se ti aumenta tanto la complessità e non riesci a tenerla bene sotto controllo, quello che ti ritrovi è la famosa big ball of mud. Questo qua, vabbè, Jurassic Park non era esattamente di fango però il concetto lo rende bene l'immagine. Può sembrare quello peggio di quello che è, cioè cos'è una big ball of mud, come viene definita in genere. Cioè è tutta una definizione arzigogolata però il concetto di base è che la definiscono come una giungla tentacolare, tenuta assieme con il nastro adesivo, tutto spaghetti code, in generale è qualcosa che porta i segni di una crescita sregolata e in cui in particolare c'è questo problema che l'informazione appunto condivisa, qua dicono promiscuosli, sì, in maniera promiscua, cioè ci sono dei punti in cui accedono più servizi, non c'è una buona separazione delle responsabilità. Ok, però diciamo nel nostro caso il contesto chiaramente era particolare, che faccia aveva la nostra palla di fango, la nostra ball of mud. Anche se vederla così non sembra particolarmente problematica, diciamo che principalmente c'era un servizio di back office sul quale si poteva lavorare su tutte le parti diciamo di configurazione di quello che era il portale di e-commerce, diciamo di Easy Welfare, una parte di core che gestiva tutte le transazioni e appunto il portale di e-commerce e poi tutto un lato più finanziario di gestione AFC. Sempre per dare un po' di contesto, come si presentava diciamo a livello tecnologico il tutto, di fatto Easy Welfare è un, quando ci accedi al principale prodotto è un portale di e-commerce, assomiglia a un portale di e-commerce, semplicemente questo viene dato l'accesso a questo e-commerce, ai dipendenti delle aziende che sono clienti di Easy Welfare e praticamente si ha la possibilità di spendere dei benefit che l'azienda ti dà in servizi o prodotti principalmente. Quindi questo diciamo è il contesto a larga maglia. Quello che succedeva è che questa crescita veloce aveva causato chiaramente appunto un po' di spaghetti code, astrazioni un po' leaky sul database e poi il grande concern che avevamo in generale è che tutti andavano a mangiare da questo database, nel senso tutte le applicazioni si collegavano direttamente, c'erano addirittura dei tool esterni per esempio di business intelligence che andavano a fare delle query direttamente per riuscire ad estrarre i dati e quindi insomma non era, era proprietà di tutti e di nessuno. Ok, quindi le nostre preoccupazioni principali come team tecnico erano che sicuramente era codice difficile da mantenere, era difficile da testare, c'era duplicazione e quindi spesso capitava che per modificare una cosa debbi andare a farlo in più punti nel codice e diventa problematico quello che chiamano shotgun surgery. Naming inconsistente diciamo non all'interno delle classi o tra le classi ma in termini di dominio rispetto a quello che era il mondo della realtà, c'erano delle astrazioni che tendevano poco a sposarsi bene con quella che era la rappresentazione reale, questo DB unico che ci preoccupava sia a livello di velocità del portale che chiaramente di performance, temevamo di metterlo sotto pressione e poi c'erano tanti processi non ancora automatizzati per il quale era richiesto che non solo le applicazioni accedessero direttamente al database ma pure le persone a mettere a posto cose e tutto questo come potete intuire portava a un grosso costo di manutenzione in generale, non era qualcosa di difficile da gestire. E noi avevamo già iniziato comunque a cercare di estrarre un po' le responsabilità da questo diciamo monoblocco che abbiamo visto prima. Avevamo tirato fuori per esempio sul portale si potevano comprare delle gift card o tipo le card di Amazon, avevamo iniziato a gestire separatamente tutta quella parte, era un microservizio a parte, avevamo iniziato a emettere i nostri belli eventi per riuscire a creare delle projection per altre diciamo funzioni di business e quindi insomma questo processo era in corso, chiaramente un processo lento perché quando lavoriamo con le parti legacy il grosso rischio è sempre quello di tocchi qualcosa, si rompe tutto e quindi chiaramente era un processo lento in corso d'opera. Che cosa ho fatto? Non lo so, stavo uscendo. Perfetto. Ora, c'è stato un attimo di clashing tra quelle che erano le nostre preoccupazioni a livello di team tecnico e quelle che erano le necessità di business, nel senso che noi davanti avevamo tutta una serie di operazioni che avevamo in mente di fare, tra cui appunto migliorare l'architettura, avevamo già i nuovi servizi, erano su Kubernetes stavamo cercando di containerizzare quello che non era containerizzato in modo poi da poterlo migrare e quindi insomma volevamo muoverci verso quella direzione, fare tutto un processo di redesign che però allo stesso tempo è la classica cosa che avviene diciamo under the hood che all'esterno non si vede esattamente cosa stai facendo, mentre da un punto di vista più del business quello che era fondamentale, oltre a un sacco di cose che non mi ricordo, questa è la verità perché da bravo tecnico non avevo una visione così completa del tutto, però sicuramente c'era questa faccenda che questo portale qua insomma era vecchiotto, la UX era quello che era, più che altro rispetto ad alcuni competitor magari che stavano emergendo c'era il timore che questa cosa che era accettabile magari col tempo non lo sarebbe più stata quindi non c'era molto da decidere, la priorità era quella perché poi non è che possiamo sempre decidere di fare quello che vogliamo e quindi ok, facciamo questo nuovo portale il problema che si è posto è ok, noi dobbiamo fare un nuovo portale ma in realtà abbiamo i dati tutti sempre nello stesso posto e quindi come facciamo a creare qualcosa di nuovo che sia fresco, moderno, che funziona e nonostante però comunque ovviamente dobbiamo continuare i dati li prendiamo sempre da là come facciamo a gestire questa cosa? e quello che abbiamo pensato è che anche noi saremmo andati a mangiare dal database non ci si poteva scappare però abbiamo detto ok, adesso noi non ci possiamo scappare ma ci deve essere un modo per scapparci in futuro in buona sostanza e quello che abbiamo deciso di fare come primo step è dire ok, iniziamo a portarci in casa un nostro database questa era la struttura che avevamo pensato tra l'altro posso usare il puntatore? così vedete il puntatore? sì, immagino di sì ottimo allora avevamo pensato una UI in React ok, e poi il back-end in PHP perché programmavamo tutti in PHP era proprio anche no choice e avevamo deciso di portarci in casa diciamo nel back-end che di base era proprio un back-end for front-end un database nostro di modo che almeno tutto ciò che sapevamo che era responsabilità di questo servizio potesse se non altro essere all'interno di un suo DB e quindi iniziare se non altro cioè a non sporcare ancora quello dove c'era ogni cosa e iniziare a mettere un po' alla volta quello che ci interessava lato nostro ora però il problema è come facciamo a diciamo ad avere un design buono a riuscire a modellare in modo ottimale quello che vogliamo fare quando comunque abbiamo questa struttura del database in cui le tabelle erano quelle che erano nel senso era già scritta da qua il piano che sarebbe utilizzare domain driven design e hexagonal architecture allora domain driven design non mi metterò a parlarne più di tanto adesso nel senso che è una metodologia di design vastissima mentre l'hexagonal architecture è diciamo un pattern architetturale giusto due parole il concetto di DD si fonda sul fatto che per modellare le soluzioni complesse a quello che è il tuo problema di dominio e dominio in questo caso era inteso come il mondo del welfare dei flexible benefit devi collaborare con gli esperti di dominio che nel nostro caso erano colleghi non tecnici ma insomma chi lavorava col welfare ogni giorno dai legali a chi altro e al fine di riuscire a mappare veramente quella che è la realtà dentro al codice cercando di cercare di fare un uno a uno di modo che emergano anche velocemente le incoerenze finché si collabora velocemente con gli esperti di dominio quindi esistono pattern tattici e pattern strategici per applicare diciamo questa metodologia noi abbiamo cercato un attimo di farci i nostri studi di coinvolgere chi potevamo e di proseguire in quella direzione lì quindi poi l'idea è che quello che volevamo fare era mantenere il core dell'applicazione come questo dominio puro e cercare di tenere ai margini il più possibile il legacy in generale tutto ciò che non modellava correttamente i dati come volevamo per fare questo abbiamo cercato di utilizzare l'architettura esagonale che si basa sul principio di inversione delle dipendenze e dice che devi tutte le classi tutti gli oggetti di alto basso livello dovrebbero dipendere dalle astrazioni e le astrazioni non dovrebbero dipendere dai dettagli in buona sostanza cioè quello che si sta dicendo è di utilizzare dichiarare delle interfacce e poi utilizzare implementazioni diverse a seconda del framework che stai utilizzando per esempio adesso vedremo degli esempi però il concetto è che che ne so per mandare degli sms io potrei avere un'interfaccia che mi dichiara un client sms e poi ho diversi provider di aggregatori ai quali io per i quali io posso fare un'implementazione specifica però se io dichiaro una buona interfaccia al core della mia applicazione interessa soltanto parlare con i metodi pubblici esposti da questa e non si deve curare di qual è l'implementazione dietro diciamo il punto è quindi che in questo modo abbiamo componenti che sono meno accoppiati che sono intercambiabili basta che rispettino l'interfaccia in questo modo aumenta la testabilità e la nostra idea in futuro era proprio quella con l'occhio del database diciamo che se noi avessimo utilizzato bene questo metodo qua in futuro avremmo potuto switchare da quel DB che era in MySQL diciamo the original one verso la nostra verso il nostro nuovo DB che era su Mongo e iniziare a delegare sempre più responsabilità alla nostra applicazione questo è il disegnino di Wikipedia che spiega quello che ho appena detto tendenzialmente quindi qua noi volevamo tenere al centro il nostro dominio puro dell'applicazione e dichiarando delle interfacce delle porte le chiamano e poi avere diversi adapter che implementassero diciamo la tecnologia specifica e che poi in futuro saremmo potuti andare a cambiare si chiama esagonale in realtà il concetto di esagonale è semplicemente che l'esagono se lo sono inventati per avere un buon numero di lati in buona sostanza potrebbe averne 7, 8, 9, 10 a seconda di quale è diciamo il concetto della porta di input o di output che stiamo analizzando per esempio notification può avere sms, mail eccetera quindi non è necessariamente 6 può essere 3 come 12 il numero dei lati e va bene quindi la nostra idea era questa qua ficchiamo la nostra la nostra applicazione al centro dell'esagono e all'esterno teniamo tutto il dettaglio implementativo e il legacy lo teniamo ai bordi quindi questo è il nostro esagono disegnato diciamo in maniera un po' più cristiana di quello che era il nostro progetto noi abbiamo utilizzato le repositories per estrarre i dati che ci servivano da MySQL e alcuni li estraevamo li estraevamo già su Mongo per dire e niente l'idea era questa che fin tanto che io qua ho un'interfaccia con cui parlare il cuore dell'applicazione non si deve preoccupare e la mia implementazione specifica quando un giorno sarei riuscito a migrare i dati da un posto all'altro avrei potuto cancellare questa parte e permettermi di diciamo senza alterare il comportamento dell'applicazione ok una nota di colore sulla questione che cioè questo povero core gli leggevamo sia dal database e poi lo chiamavamo anche via API perché una delle peculiarità di questo back end di portal era che doveva presentare molti dati e aveva poche azioni e le azioni e le azioni per azioni e le azioni intendo tipo effettuare effettivamente l'acquisto modificare i dati di chi utilizza il portale il profilo utente diciamo quelle lì erano veramente le uniche due operazioni e tutto il resto era principalmente presentazione dei dati e quindi noi fin tanto che noi non ci ritenevamo proprietari del database di MySQL e quindi in questo back end noi non andavamo a scrivere su MySQL semplicemente leggevamo e basta se dovevamo fare delle operazioni di dispositivi che avevano side effect le avremmo sempre comunque fatte tramite API anche questa è una separazione concettuale importante perché attendere magari quelle lì sarebbero comunque rimaste come responsabilità nel core però la presentazione dei prodotti dei servizi così invece sarebbero diventati una nostra responsabilità diciamo lato portal su questo back end ok questa è la roba che ho appena spiegato nel senso che le repository perché abbiamo usato repository e non le API è proprio per questo motivo che noi volevamo dichiarare fermamente quali erano qual era la forma dei nostri dati e poi un giorno ci saremmo fatti guidare diciamo dalle interfacce come 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 specifica proprio come contratto per il processo di migrazione dal dal vecchio linguaggio a quello nuovo per dare un'idea di quel di perché continuo a dire vecchio linguaggio quello nuovo questo qua è un esempio stupido però è abbastanza funzionale rispetto al problema che avevamo quando poi devi andare a rappresentare i dati si passava da un linguaggio in italiano comunque con una rappresentazione un po' generica che dice appunto che un utente con il suo benefit aziendale richiede un servizio in buona sostanza e noi volevamo entrare in un un'ottica un po' più moderna di un employee un dipendente perché gli utenti del portale erano solo dipendenti quindi utente era un'affermazione generica diciamo era un nome generico volevamo dire che questo employee con il suo wallet poteva ordinare un prodotto un cambio di linguaggio che comunque rispecchiava anche sotto una pensata di design abbastanza importante e ok show me the code cioè com'è che facevamo questa cosa in buona sostanza dichiarando le interfacce delle repository e poi di base all'inizio semplicemente implementando la parte di MySQL però diciamo che se tu dichiari un'interfaccia che dice che dato l'id ti tira fuori un prodotto e hai la classe concreta del prodotto che è definita adesso io ho messo tra l'altro non mi ricordo esattamente tutto quindi chiaramente ho messo soltanto dei campi a scopo esemplificativo però diciamo che questa qua è la nostra nuova rappresentazione del prodotto id nome categoria descrizione e la mia repository mi può tornare quella cosa lì perfetto allora cosa che vado a fare posso avere la mia implementazione di MySQL e qui era dove avveniva la magia diciamo nel senso che la repository funzionava veramente come un layer anche di traduzione cioè si passava da un linguaggio particolarmente legacy che avevamo magari più tabelle in italiano anche qua a scopo esemplificativo al nostro linguaggio nuovo con i nostri termini di dominio ed era qua nella repository dove avveniva diciamo la prima fase della traduzione tant'è che in futuro avremmo potuto pensare di estrarre il nostro prodotto semplicemente da Mongo per esempio implementando un Mongo repository vediamo che implementa la stessa identica repository la firma del metodo è lo stesso torna lo stesso tipo di prodotto perché gli dà impasto allo stesso metodo factory ok qua serviva un po' di machinery per dargli quello che gli piaceva però in buona sostanza quello che va a fare è dare al metodo factory del prodotto di questo value object tutti i dati che gli servono quindi nel momento in cui io ho una qualsiasi classe che dipende da una product repository a me basta iniettare l'interfaccia so che quel metodo mi torna quell'oggetto non mi interessa qual è l'implementazione specifica la posso cambiare in futuro ora arriva la parte tricky nel senso questa cosa qua si può fare con un framework PHP di quelli standard e per standard io mi riferisco ai per esempio Laravel e Symfony principalmente che sono quelli con cui ho avuto a che fare io vediamo un attimo nel senso che ci sono delle considerazioni da fare poi io sono un pochino più pratico su Laravel perché è quello che ho visto di più ultimamente anche in Casavo si usa sull'applicativo c'è un applicativo Laravel e Symfony è da parecchio che non lo uso penso sia anche evoluto nel frattempo comunque di base questi framework tendono ad avere un forte accoppiamento tra quello che è lo schema del DB e il codice in buona sostanza e su Laravel è letale nel senso che hanno ancora il modello stile active record in cui tu definisci il modello ed è un misto tra quello che abbiamo visto prima tra ripositori e prodotto cioè tu hai il tuo active record e quindi è quasi impossibile scollare le cose da quella che è la rappresentazione su DB prendete tutto con le molle nel senso che chiaramente non è che è impossibile scollarle però vai contro quelle che sono le best practice del framework e quindi tendenzialmente stai utilizzando il framework cercando di non utilizzare il framework ed è esattamente quello probabilmente che secondo me come esperienza personal bisogna evitare perché se no si finisce in un tunnel di complessità a cercare di ingannare il framework per quanto riguarda Symfony io mi ricordo che era organizzato un po' meglio repository più entity quindi se non altro c'è anche una separazione tra l'oggetto che ti tira fuori l'entità e come è fatta l'entità però mi ricordo che l'entità era fortemente bindata alla rappresentazione su DB per di più ci sono delle altre cose che tipo in Aravella ci sono queste facades che sono accessibili un po' ovunque o in mente il logger per esempio che rischiano che se le utilizzi così come te le danno by default rischi di nascondere delle dipendenze all'interno delle classi senza dichiararle esplicitamente come dipendenze esplicite nel costruttore questo qua è il nemico mortale probabilmente dell'architettura esagonale di un design che possa sostenere quel tipo di architettura lì piccola parentesi sulla sulla forma che ha diciamo la directory proprio tendono a organizzarle sulla base del ruolo tecnologico del componente quindi model controller viste quando noi volevamo organizzare sulla base di del dominio quindi poi adesso poi vediamo un confronto però il concetto è che anche qua si può utilizzare qualsiasi struttura si voglia chiaramente anche con questi framework però ti stai allontanando dallo standard che loro esplicitano e che comunque quando vai a cercare nella documentazione cioè cercare di prendere una via separata e mantenerla richiede molta disciplina chiaramente senza framework se proviamo a fare un'applicazione PHP diciamo il più possibile senza framework sicuramente non abbiamo particolari problemi a fare a disaccoppiare il dominio dalla la logica cioè la logica di dominio dallo schema del database però sicuramente ci abbiamo anche qualcosina di più da fare noi a livello di wiring l'estruttura chiaramente della directory visto che parti da zero te la organizzi come vuoi te puoi fare come abbiamo visto repository più interfacce che insomma con le repo tiri fuori value object entities senza appunto che possono essere rappresentati come oggetti avulsi da quella che è la rappresentazione sul database e poi puoi obbligare la dependency injection e rafforzare quindi dipendenze esplicite insomma applicare tutti i principi che ci piacciono tanto limitare a una sola responsabilità il ruolo delle classi insomma aumentare un attimo anche la testabilità e la manutenibilità chiaramente questo ha il prezzo di una minima di wiring iniziale che bisogna pensare un secondo e vabbè questo giusto al volo per rafforzare quello che dicevo prima nell'esempio che abbiamo fatto prima del dipendente che compra un prodotto col suo portafoglio su Symfony che è questa è la struttura standard organizzerei appunto per controller repository entità e quindi se dovessi cambiare qualcosa relativo al prodotto dovrei già andare a cercare in diverse cartelle l'Aravel idem anzi fa anzi dichiarazioni esplicite su quello che è il layer di trasporto per esempio quindi succede la stessa cosa per esempio anche le eccezioni che potrebbero essere strettamente correlate a una qualche non so repository tendono a suggerire di metterle in una cartella a parte eccetera mentre quello che magari potevamo provare a fare noi e che volevamo fare noi era dividere tutto per contesto di dominio quindi per esempio dove c'è il prodotto metto tutte le cose del prodotto dove c'è il wallet metto tutto tutto quello che c'è del wallet e insomma in questo modo avremmo avuto una separazione un attimo più coerente con quello che era il nostro modo con cui volevamo andare a fare design aggiungo che in Casavo ultimamente ci siamo spinti un attimo al passo successivo nel senso che abbiamo cercato di portare il concetto di architettura esagonale anche dentro diciamo alla directory e dire ok nel dominio ci tengo solo quello che è puro proprio quindi ci tengo le interfacce ci tengo le classi che non cambiano quelle che mi rappresentano gli oggetti di dominio e poi nel mio layer infrastructure vado a fare per esempio su MySQL tutte le implementazioni che mi servono di quell'interfaccia specifica poi avrei potuto avere Mongo eccetera stiamo provando a utilizzare questo metodo un attimo diverso mi sembra comunque interessante ordinato perché poi comunque resta il fatto che tu all'interno del tuo dominio ti rimane veramente quello che è il succo della logica della tua logica di business va bene quindi io passerei alla parte in cui vediamo come abbiamo fatto a tirare tutto insieme e perché in realtà fare un'applicazione PHP senza framework è molto più semplice di quello che magari si possa pensare non lo so per chi magari non ci ha mai provato e vabbè cosa ci serviva nel nostro caso ma cosa ti serve in generale sicuramente layer di trasporto HTTP per fare l'API REST routing middleware eccetera logging per avere traccia di quello che succede configurazione sicuramente ci serve un provider di configurazione per esempio per secret variabili varie che cambiano in base per esempio all'ambiente se sviluppo staging piuttosto che produzione quindi chiaramente dobbiamo poter gestire diverse configurazioni container per la dependency injection visto che vogliamo renderla esplicita chiaramente ci serve un punto dove poter dichiarare quali sono i nostri oggetti da iniettare diciamo le dipendenze in modo che vengano costruiti correttamente e poi error handling in modo da insomma se si rompe qualcosa loggare dare un formato standard anche negli errori alla nostra API ok lato un po' più ah poi premessa questo non vuol dire scriversi le robe da zero semplicemente significa cioè esistono triliardi di librerie significa cercare di comporre i componenti minimi che ci permettono di dare all'applicazione la struttura che vogliamo quindi quello che avevamo usato non era Silex se non sbaglio che è MWort non lo manutengono più ed è sconsigliato utilizzarlo chiaramente ci è capitato di usare Slim in Casavo e io personalmente mi trovo molto bene Lumen è il micro framework di Laravel che non ho mai provato direttamente ma sembra abbastanza interessante anche se te lo vendono come tu inizia con Lumen e poi puoi passare a Laravel quando questo in realtà è un po' il concetto opposto cioè nel senso che tu cerchi di svincolarti dal framework perché in genere è quando un progetto diventa grande che il framework inizia a starti stretto se devi fare una cosa molto semplice alla fine il framework ti aiuta ma qua invece sembra quasi che venga passato un po' il concetto opposto mi ha lasciato un po' stranito e poi c'è il micro kernel trait di Symfony che non l'ho mai provato neanche quello ci ho dato un'occhiata mi sembra un pochino più complesso da configurare però fa la stessa cosa come esempio ho preso Slim perché è veramente banale come si fa a creare un'applicazione Slim se non hai dipendenze è facile come fare queste piazzare queste righe qua in index.php praticamente ti crei la tua applicazione dichiari le rotte e poi fai up run che sarebbe la parte in cui vai a leggere sotto under the hood va a leggere la request e a passarla attraverso i vari middleware e a gestirla in buona sostanza quindi questo qua è il minimo già se fai così questa è un API funzionante tecnicamente certo ti risponde solo lo è lo name non ha niente di particolare però questo è il minimo che ci serve logging a livello di librerie standard de facto monolog non ci perdo tanto tempo scopo esemplificativo giusto per ribadire la semplicità new logger info molto molto semplice qua c'è un pochino di configurazione perché se stiamo lavorando con docker per esempio magari bisogna dirgli di loggare su standard out però insomma poi si può complicare a piacere questo è un esempio volutamente minimale configurazione esistono tantissime librerie tendenzialmente adesso giustamente si la tendenza è quella di mettere tutto ciò tutte le secret le variabili di configurazione all'interno delle variabili esposte come variabili di ambiente quindi se si vuole avere un file .env per esempio in sviluppo può essere comoda questa libreria php.env che ti permette di caricare nell'ambiente le variabili da file di modo che poi quando sei in produzione semplicemente le metti come variabili di ambiente e non hai bisogno di commettare su repository secret o cose particolari symphony config sun config ci ho messo write your own nel senso che la configurazione è veramente una parte in cui ci si può sbizzarrire però può essere anche molto semplice dopo vediamo un esempio container per la dependency injection esistono anche qua diverse librerie sarebbe un po' scomodo pensare di scriver solo da zero questo phpdi pinpol queste qua ce ne sono diverse mi è capitato di usare phpdi a me piace particolarmente molto semplice ti crei un builder dici quali sono le tue definizioni delle dipendenze in buona sostanza e poi tiri sul container ed è pronto per andare a chiedergli le varie istanze che all'interno dell'applicazione ti torna già le istanze con le dipendenze iniettate vediamo come è fatto un file di definizione giusto per avere un'idea generale per esempio se il logger di prima ecco se abbiamo un controller che ha bisogno di loggare qualcosa avrà come dipendenza esplicita nel costruttore la logger interface e poi noi diciamo che tu applicazione logger interface me la devi risolvere con questa istanza concreta di logger che implementa logger interface chiaramente è ancora qua una volta vedete che andiamo sempre a iniettare l'interfaccia e non classi concrete e quindi di base il nostro ping controller poi quando l'applicazione avrà bisogno nella rotta di usare il ping controller si troverà già l'oggetto istanziato con tutto quello che abbiamo definito error handling anche qua esistono funzioni a basso livello di di PHP set error handler shutdown function mi sembra di base visto che sto facendo un esempio con slim si può anche semplicemente settare l'error handler per slim e dirgli ok guarda che questo qua era l'app che avevo creato prima ad esempio aggiungici l'error middle e dire che l'handler di default è questo qua e tu gli dichiari che vuoi tornare 500 e magari puoi dirgli che ne so che in ambiente di sviluppo puoi magari essere un po' più verboso e far vedere qual è l'errore e se no 500 body empty in altri ambienti per esempio e ok quindi questo è veramente cioè tutto quello che serve per avere un'applicazione completa funzionante da cui iniziare a a costruire più che altro a concentrarsi su quello che è il dominio sulla logica applicativa come fai a tirare insieme il tutto col bootstrap dice ok creo un container importo le definizioni che è dove è contenuto logger configuration provider eccetera creo la mia applicazione iniettando il container ok adesso andiamo a vedere come e vabbè setto l'error handler applico le rotte e basta e vabbè app run il comando finale quello per interpretare la request entrante io ho un esempietto velocissimo perché ci tengo troppo a far vedere quanto sia veramente quanto in una pagina si faccia tutto in buona sostanza un file nel senso che questo qua è il bootstrap completo di quello che abbiamo appena visto tra l'altro ho preso esattamente da quell'esempio nel senso che abbiamo il nostro container builder a cui aggiungo delle definizioni qua c'è il file delle definizioni un pochino più complesso io adesso ho creato un controller ad esempio che fa le operazioni principali tra cui leggere da un db loggare piuttosto che ping pong e poi c'è una rotta che tira eccezione tipo per far vedere che il cablaggio funziona e quindi qua abbiamo tutta la nostra definizione delle dipendenze questo controller per esempio dipende dalla connessione db da logger dal provider della configurazione qua sono definiti e qui sono iniettati quindi qua noi sappiamo che abbiamo quegli oggetti quando creiamo la nostra applicazione di slim o di qualsiasi altro microfinimor sia gli iniettiamo il container che è dove andrà a cercarsi le istanze di queste di queste classi quando gliele andiamo a richiedere inietto si puoi ingrandire un po' chiedono il font certo 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 non so come si fa adesso faccio allora si defining the color scheme ah questo ok vediamo meglio è leggibile così? mi sembra di sì se volete anche un po' di più non è un problema tanto su tre righe arrivo bene allora e quindi sì stavamo dicendo vabbè le definizioni quindi le abbiamo visto prima era come l'esempio nella slide questo solo un paio di definizioni in più va bene quindi creiamo la app di slim o qualsiasi microfinimor sia iniettando il container di modo che abbia accesso a quelle definizioni qua vabbè un po' di setup bisogna aggiungere dei middleware che magari sono necessari poi dipende framework o framework si aggiunge l'error handler che fa esattamente questo è identico esattamente quello che dicevamo prima si dichiarano le rotte e le andiamo a vedere adesso vabbè queste qua in questo caso si fanno così gli dici chiamami il metodo ping su quella classe lì quella classe lì lui se la va a trovare dal container e la associ a quella rotta basta un dettaglio sul configuration provider che giustamente ne ho parlato poco prima dove sta qua ok configuration provider può essere tanto semplice come questo cioè dammi cioè l'interfaccia è questa data una una chiave dammi il suo valore dimmi se esiste dammi il valore oppure default dimmi che cosa hai in configurazione e questa l'implementazione che ho fatto io per esempio qua è in prende semplicemente dalle variabili d'ambiente che visto che sono con docker le ho iniettate tramite docker compose qua ho la mia istanza del il mio servizio diciamo di esempio quindi l'applicazione php è qua l'istanza di postgres del db un db ad esempio e vabbè quindi di base poi quello che manca visto tutto c'è c'è il controller vabbè che fa un po' di vediamo semplicemente così per vedere che funziona adesso io dovrei aver già tirato su anche qua un attimo vediamo se riesco ok container è su sull'8080 se io faccio ding ding va bene cioè giusto per vedere che è cablato che mi porta fuori quello che ho in configurazione avevo una rotta dove avevo scritto var dump invece che var dump che tira un fatal me l'ho formata in quello che ho deciso essere il mio formato dell'API che era quello prima quindi json che mi torna error con quello lì col messaggio e basta e quindi di fatto poi se avete domande dopo ci ritorniamo un attimo da questa parte qua però è veramente uno due tre top quattro cinque file e ci siamo è tutto quello che serve per tirare in piedi quelle che poi sono le basi della nostra applicazione bene termini in termini di testing la cosa bella è che avendo forzato la dependency injection ci troviamo che tutte le dipendenze sono dichiarate nei costruttori delle varie classi quindi quando dobbiamo testare in unità basta che se vogliamo fare veramente in isolamento possiamo iniettare dei mock degli stab quello che vogliamo in modo da testare in isolamento appunto se abbiamo cose che sono particolarmente lente a lavorare col DB e dobbiamo fare tanti test potremmo pensare a delle implementazioni in memory di alcune repository per esempio visto che abbiamo dichiarato l'interfaccia possiamo per esempio visto che abbiamo dichiarato l'interfaccia sul logger possiamo fare un logger finto che ci permetta di andare a vedere se stiamo loggando correttamente in certe situazioni per esempio e così via quali sarebbero stati i nostri prossimi passi in Easy Welfare continuare il refactoring del core identificare altre responsabilità separarle quindi spezzettare sempre di più quello che era il monolite iniziale sì dai chiamiamolo monolite insomma era bello grosso e separare responsabilità perfetto e man mano man mano avessimo estratto servizi o avessimo mosso dei dati da un db a un altro diciamo in un nuovo formato avremmo aggiunto nuove implementazioni delle nostre repository piuttosto che dei nostri servizi per chiamare il nuovo micro servizio di turno piuttosto che andare a leggere dal nostro database piuttosto che da quello legacy questo qua era il nostro piano d'attacco quello che è successo in realtà è che siamo stati comprati ci hanno comprato e avevano un portale di welfare analogo al nostro e quindi hanno deciso di smettere il progetto e questo è il finale drammatico di tutta questa cavalcata qua e di cui in realtà io personalmente mi porto a casa veramente una lezione abbastanza interessante cioè la prima è che creare un'applicazione PHP da zero senza framework e cioè lì ho scritto è quasi semplice nel senso che sì non è banale perché sai che man mano cresci nel tempo dovrai aggiungere sicuramente altri componenti però allo stesso tempo sei in pieno controllo di quello che sta succedendo e puoi avere un focus totale su quello che è il tuo dominio applicativo la tua logica di business e non è vero che secondo me che cioè proprio il concetto di pensare un po' frameworkless è perché non ti limita in realtà ti dà più flessibilità in questo caso qua noi sfruttando diciamo l'architettura esagonale o perlomeno provandoci ci siamo dati la libertà in futuro di poter cambiare delle componenti importanti senza dover andare a mettere i codici in quella che era la logica di dominio che era testata separatamente in buona sostanza abbiamo ridotto l'accoppiamento tra i vari componenti ne è saltato fuori che sicuramente a tendere sarebbe stato qualcosa che sicuramente probabilmente sarebbe stato più manutenibile e testabile e bene allora io vi ringrazio per so che ho detto un sacco di cose quindi momento delle domande immagino ci preciso che comunque se avete da dubbi su quello che ho detto o curiosità potete scrivermi qua e poi prima che ci siano le domande faccio anche la marchettata finale che in Casavo noi comunque cerchiamo sempre se c'è gente che sta cercando quindi passerei se ci sono domande a ooooooo... buoooooo...